Emozioni forti quelle vissute degli spettatori che hanno seguito la sfida al vertice fra Sondrio e Calcio di Bionno Giono rispettivamente la seconda e la prima della classe nel girone via eccellenza. Il big match è finito 1-1, pareggio che mantiene in mutate le posizioni in classifica. A evitare la prima sconfitta stagionale per il Sondrio è stato il gol di Jamal Idrissi al 95esimo. Partita dura, maschia, quella fra i ragazzi di mister Luca Colombo e la formazione lecchese. Nibionno Giono rimasto in 10 dopo 27 minuti di gioco per l'espulsione di Redaelli, rosso diretto per la testata rifilata a Botticini a gioco fermo. Brutto episodio sul quale l'arbitro il signor Zanotti di Rimini non ha avuto dubbi. Ma proprio in inferiore numerica i lecchesi sono passati in vantaggio al 36esimo Montalbano per Isella, bravo a saltare l'uomo, il tiro che si insacca alle spalle di Lassi. Una doccia gelata per il pubblico valterinese. Nella ripresa l'altro episodio chiave, a metà del secondo tempo il contatto a gioco fermo fra Legnani e Ronzoni. Mentre l'arbitro era impegnato a valutare il provvedimento da prendere, Montalbano ha accusato un malore e si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza. Al termine l'arbitro ha estratto il cartellino rosso, espulsione diretta per Legnani. Il Nibiorno Giono si è ritrovato dunque in nove, tensione alle stelle durante il lungo recupero. Poi al 95esimo Idrissi, talento cresciuto nel vivaio biancazzurro, ha fatto esplodere la gioia dei tanti tifosi assiepati sugli spati della Castellina. Corner di Speziale e Jamal che insacca. Grazie a tutti.